Se in giro per i bagnasciuga di Punta Marina e Marina di Ravenna dovesse capitarvi di incontrare delle mamme che con il passeggino fanno dello stretching o degli esercizi, beh, siete in presenza di quelle che vengono chiamate le mamme fitness, ovvero le mamme che hanno da poco partorito e che partecipano a questo interessantissimo corso di mamma fitness. Melinda Caternolo, istruttrice di mamma fitness, allora di cosa si tratta? A niente, il mamma fitness nasce da due ragazze, istruttrici di fitness di Milano, Monica Taranto e Elaine Barbosa. Piano piano stanno formando istruttori in tutta Italia e serve fondamentalmente per le mamme che hanno partorito da almeno sei settimane per mantenersi in forma, per evitare depressioni post parto che è il principale problema delle mamme dopo il parto, per stare in compagnia, per rimettersi in forma, per lavorare bene con la zona perineale che è stata interessata durante il parto e per riprendere il tono un po' addominale che sappiamo bene che per i primi sei mesi non possono essere lavorati in palestra e quindi noi facciamo esercizi apposta per poter riprendere il tono in modo giusto senza traumi. Quindi comunque è un'attività molto utile perché addirittura sostituisce la palestra che in quel periodo non può essere seguita insomma. Esatto, proprio sostituisce la palestra, è una ginnastica a tutti gli effetti e infatti durante il periodo primaverile, estivo e autunnale lo possiamo fare all'aperto. Primaverile e autunnale viene fatto nei parchi, estivo abbiamo fatto questa prova al mare e invernale ovviamente dobbiamo trovare una palestra che ci ospita. La prova estiva come è andata? Quante mamme si sono iscritte? Com'è stato l'approccio di questo tipo di attività alla spiaggia? Allora, questo è il primo anno che lo facciamo a Ravenna quindi ancora le mamme sono un po' stranite da questa cosa, non sanno bene come funziona quindi quelle mamme temerarie che si sono lanciate sono molto contente e molto soddisfatte. Sicuramente l'anno prossimo avremo più numero, però siamo già contenti così. Il primo corso che è stato fatto in un parco a Ravenna è andato molto bene. Qui al mare è stata una prova ma siamo soddisfatti. Per Ravenna Web TV, Joseph François